Spesso, troppo spesso, la voce delle donne non viene ascoltata. Spesso, troppo spesso, il tentativo di trovare spazi, autonomia, rispetto, è soffocato da un mondo maschile che grida troppo forte o avvolge le donne in un silenzio mortificante. Diverse è il tentativo di creare uno spazio in cui cinque donne simbolo della lotta per trovare la voce gridano o sussurrano la loro fatica, le vittorie e le sconfitte in un percorso dal buio alla luce. Grazie a tutti.